ciao volevo solo dirvi che questa settimana usciranno meno video allora poi ho una barba indecente dovrei radermi quindi scusate comunque usciranno meno video questa settimana perché è tornato anche mio fratello da da roma che sta qua qualche giornata e niente insomma dai vedrete qualche video più avanti cose che volevo dirvi vedrete di gameplay beh intanto c'è The Descendant che avevo lasciato un po' in sospeso quindi concluderò gli ultimi episodi di Descendant quell'avventura che magari qualcuno di voi ha visto sul mio canale prima e poi invece come gioco nuovo porterò Empathy Empathy the Path of Whispers che dovrebbe essere un gioco dell'atmosfera che potrebbe un po' forse avvicinarsi come stile di gioco a What Remains of Edith Finch vedremo è perché devo ancora giocarci quindi insomma vediamo ma spero che sia molto interessante devo ancora provare devo proprio comunque vediamo e niente ciao a tutti da Svideo ci si vede prossimamente ciao a tutti ciao